un saluto a tutti gli amici di le fonti tv in questa puntata parleremo dell'evoluzione della normativa e dell'impatto degli incentivi eco e sisma nel settore delle costruzioni nel settore dell'edilizia quali effetti questi incentivi poi effettivamente hanno e non solo ma anche con i nostri ospiti studio oggi cercheremo di fare il punto della situazione su quello che è la situazione del patrimonio edilizio italiano non mi resta che salutare appunto i nostri ospiti che sono qui presenti al mio fianco inizio con l'avvocato fulvio di domenico socio di genesis avvocati ben arrivato qui ben benvenuto qui in questa trasmissione grazie per l'invito e il signor stefano morbio socio amministratore unico di morbio costruzioni ben arrivato per avermi invitato comunque io partirei con l'avvocato di domenico per far capire meglio ai nostri amici che ci ascoltano che guardano appunto questa puntata per capire bene di cosa stiamo parlando ovvero degli incentivi facciamo un attimo un percorso storico andiamo a capire velocemente chiaramente quali sono qual è l'evoluzione della normativa degli incentivi dal decreto legge numero 63 del 2013 al decreto legge 34 del 2020 non solo ma poi andiamo anche le chiedo anche qual è il perché di questi incentivi qual è la logica e quali effetti poi hanno allora il sistema degli incentivi effettivamente nasce per la sua importanza per la sua magnitudo con il provvedimento del 2013 che lei ha citato prima è quello che introduce un meccanismo di agevolazione di incentivazione sotto forma di crediti d'imposta sia per gli interventi di legamento sismico sia per quelli di risparmio energetico questo ha un'evoluzione importante a partire dal 2016 perché vengono aumentate le soglie vengono portate a 96 mila euro vengono aumentate le percentuali di trazione rispettivamente il 70 80 per cento se parliamo di unifamiliari 75 85 per cento se parliamo di condomini questa normativa subisce come dire dei momenti di incertezza chiamiamoli così a cavallo tra il 2019 i primi del 2020 perché in parte ne è ridotta la portata sotto il profilo applicativo per poi avere effettivamente il massimo della sua espressione con il decreto di maglio il decreto 34 che poi è stato convertito in legge 77 attraverso il quale è stato parato il famoso incentivo del 110 per cento che nelle intenzioni effettivamente del governo porta a consentire ai proprietari soprattutto di immobili a destinazione residenziale di fare interventi legati al risparmio energetico e all'adeguamento sismico sostanzialmente senza sostenere alcun tipo di costo al di là di quelle che poi sono state nell'evoluzione normativa la portata degli incentivi quindi in termini di idrazione piuttosto che di soglie effettivamente c'è stata una coerenza da parte di tutti i governi che sono succeduti perché questo sistema di incentivi è stato applicato e implementato sia da governi di centrosinistra che da governi di centrodestra e fondamentalmente la logica è stata da un lato di non consumare il nuovo territorio quindi di promuovere tutto ciò che è il recupero di patrimonio esistente e dall'altro di sospingere verso la riqualificazione del nostro patrimonio sotto due aspetti principali quello dell'adeguamento ai migliori standard di protezione sismica essendo noi un paese ahimè molto esposto a quel punto di vista e per l'altro aspetto quello del risparmio energetico quindi fondamentalmente tutte le tecnologie che consentono di disperdere meno energia e conseguentivamente di impiegarne meno. La ringrazio io passerei allora a questo punto al signor Morbi al quale chiedo qual è la situazione attuale del settore delle costruzioni del settore edilizio soprattutto dopo la crisi del 2018 e quale impatto effettivamente hanno questi incentivi ecosisma nel settore? Allora la crisi del 2008 ha stata una crisi importante ha segnato molto il settore edilizio e solo negli ultimi tre anni si è potuto registrare un aumento della produttività nel settore l'ultimo anno 2019 c'è stato un aumento del segnato del 2 per cento circa da fonti istat purtroppo 2020 non può confermare il treno positivo causa emergenza sanitaria quindi anche le migliori previsioni del lance scongiurando un secondo lockdown prevedono un 13 e mezzo per cento quindi il 2020 non sarà un anno positivo per il futuro le compravendite immobiliari causa emergenza sanitaria sono incerte il privato non sa come muoversi e quindi per fortuna il governo ha messo in campo questi incentivi quindi questo super bonus che può muovere nel 2021 il mercato delle costruzioni un mercato però che riguarda soprattutto le riqualificazioni energetiche quindi un mercato che riguarda non lavori strutturali quindi non lavori importanti perché il tempo per mettere in campo un lavoro un lavoro di demolizione ricostruzione o una ristrutturazione importante non c'è dal punto di vista amministrativo e quindi riguarderà soprattutto il risparmio energetico bene più o meno già mi ha risposto anche a una seconda domanda che voglio farle ovvero innanzitutto le chiedo anche qual è la situazione del mercato del recupero perché strettamente legato anche a quello edilizio delle costruzioni e poi per concludere questa prima parte di doppio binario capire un po' qual è la panoramica del settore edilizio italiano anche se un po' già ce l'ha accennato col fatto che queste percentuali non sono proprio rincuoranti considerando appunto questa perdita dovuta anche al covid e alla situazione contingente ecco ci faccia una panoramica di questi due settori allora se parliamo di patrimonio immobiliare italiano parliamo di un patrimonio immobiliare piuttosto vecchio sappiamo che il 77 per cento degli edifici sono antecedenti gli anni 80 e quindi sono in uno stato per lo più mediocre e a qualvolta pessimo dal punto di vista energetico e anche dal punto di vista sismico questa opportunità che ci dà il governo del super bonus è un'opportunità importante per poter riqualificare gli edifici per poter abbellire quindi i quartieri delle nostre città è un'opportunità di lavoro nel settore delle costruzioni e non per ultimo è una grande opportunità perché può aumentare il patrimonio residenziale italiano bene allora la ringrazio ringrazio per insomma per il vostro contributo salutando ovviamente l'avvocato fulvio di domenico socio di genesis avvocati grazie per essere stato qui con noi grazie è stato un piacere e ovviamente saluto il signor stefano morbio socio amministratore unico di cosmo morbio costruzioni grazie un minuto di pubblicità e ovviamente restate qui con noi con la seconda parte di doppio binario dove ci saranno sempre i nostri ospiti qui presenti in studio con i quali andremo ad approfondire appunto questa tematica a tra poco